E' il fai con tutto quello che ti fa, ti fa... Eh, dioccia. 610. Giovane queste. 3-4 anni. Perché fa così? Non c'è la cosa. Maschio, eh? Sì. Maschio, no? Sì, maschio. Sì, sì, sì. Eh, dai, ti metti da lì. Vieni, vieni. Ma che annunciare? 3-4. Cioè, i rendi sporchi però. Questo è padronale, Franco. Vieni, vieni. Vieni. Ma ora, come stai con? Vieni, vieni. Vieni! Vieni. grazie a tutti